Sì, so cos'è, ma cosa hai trovato? 100 crediti, mica male, 100 crediti ragazzi Non sai che quest'arma qua l'ho trovata in una cassa? Lo so, lo so, vediamo, 40 crediti, insomma, oh, mica niente, mica Beh, qua si vuole trovare almeno una skin, dai, una skin, una skin Sì, due skin, bellissime! Dai, ma contento Cosa ti hanno dato una skin o poi? Due, la skin dell'arma La skin, di armi Ah, ok, pensavo una skin tipo personaggio, ok Dai, oh, mica male, aspetta che guardo Metti gli oggetti nel flashback Ho questa e gli metto questa qui che è bella Metti che armi? Mettona, io qui un attimo per vedere le sfide dei miei zombie Oh, che faggio, dai, più bella Però questo qui è blu Devo uccidere 300 zombie Ah, ma lascia i zombie, buona vita No, dai, voglio fare la modernità degli zombie, di invito Va bene Yeah Eh, avvio Aspetta Ok Foggi tutto Eh, mentre Ma, oppure facciamo sopravvivenza Allora Grazie.